Ci troviamo in Borgo Vanchiglietta, si chiamava parecchi anni fa Bur d'Alfeu. In quegli anni la situazione politica generale andava verso una guerra che purtroppo ci capitò così tra capo e collo nel 1940 e la guerra cambiò molte cose. Si sentiva il carico delle bombe. La rabbia contro il fascismo cominciava a serpeggiare. La sopportazione ha un limite, in fabbrica si mugugnava, ci si lamentava. Così si andò a organizzare per la prima volta uno sciopero contro la guerra. Si incominciò a pensare che potevamo fare qualcosa per venirne fuori, ma non potevamo più fare solo la dimostrazione pacifica, che bisognava andare a organizzare una lotta armata. Una ventina di fascisti armati fino ai denti sfondarono la porta a casa mia. Allora entrarono dentro, mi impacchettarono, mi portarono all'albergo nazionale. E io ero in un angolo là, seduto, che guardavo sta cena. E io ero in un angolo là, mi impacchettarono, mi impacchettarono, mi impacchettarono, mi impacchettarono. Grazie. Grazie.